Domenica e lunedì sono due giorni importanti per gli elettori dell'M5S perché sono chiamati a ratificare il voto sul presidente Giuseppe Conte. In quei giorni infatti è stata convocata l'assemblea degli iscritti per la consultazione in rete sulla rielezione di Giuseppe Conte. Si vota dalle 8 del 27 marzo 2022 alle ore 22 del 28 marzo, continuativamente, in unica convocazione. Gli iscritti votano anche per l'elezione di un componente del Comitato di Garanzia, Jacopo Berti e Laura Botati ci sono candidati per sostituire Luigi Di Maio. Amiche e amici del Movimento 5 Stelle, tra poco condividerò qui sui miei canali un messaggio importante. Ascoltatelo, è un momento decisivo per tutta la nostra comunità, ha scritto su Twitter l'ex premier. E poi ha postato un video in cui ribadisce il NO all'aumento del spese militari, chiede la fiducia agli iscritti e lancia messaggi ai detrattori. Non posso accettare che al nostro interno ci sia chi rema contro. Inoltre, chiede di rifondare il partito creato da Grillo e Casaleggio, NO a un movimento moderato e conservatore che sta nelle stanze dei Bottoni, dice mandando un siluro agli esponenti del movimento che erano al governo con lui e ci sono rimasti anche quando lui non c'era più.